E da qui ci arrivano delle notizie, Matteo, da Iesolo, praticamente hanno organizzato la cena di Natale per le famiglie bisognose a McDonald's, praticamente erano i Big Mac per Natale, mamma mia, tutta roba sugelata, facevano prima a spendere qualche sordino più e fare un pasto caldo, un permiestrone, una cosa, no, Big Mac, tutto cibo spazzatura, comunque sempre roba da mangiare ragazzi, non buttiamo mai per niente, apprezziamo il gesto del comune di Iesolo che ha offerto la cena di bisognosi, che ne dici Matteo? Ma si mangia americano ragazzi, fino a che si può mangiare, oh, dateci piano, non esagerare, i Mac e Burger sono sempre più buoni, mi raccomando. Dai, Ron John.